Anche quest'anno l'Associazione Familiari Alzheimer Ollus di Caltanissetta e il centro di urno dell'AFP in occasione della 24esima giornata mondiale Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno deciso di organizzare per giovedì 21 settembre degli incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli enormi problemi provocati dalle malattie neurodegenerative. Una patologia a forte impatto non solo umano ma sociale per le repercussioni di tipo assistenziale ed economico. In Italia si contano circa 600.000 malati di Alzheimer, un numero destinato ad aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione. Purtroppo è una patologia che ultimamente si sta diffondendo a macchia d'olio e noi facciamo in modo come associazione di porre l'attenzione su questa malattia e inoltre lo facciamo soprattutto per sensibilizzare gli operatori del settore oltre che naturalmente dare informazioni alle famiglie e a coloro che si occupano di questi ammalati. Il giorno 21, proprio in occasione di questa giornata, abbiamo organizzato due eventi. Uno si svolgerà al Parco Rubini, ci sarà una passeggiata insieme ai responsabili della delegazione della LIPU e del WWF. Alle ore 10 ci ritroveremo insieme ai pazienti del centro diurno a fare questa passeggiata. Naturalmente ci verranno illustrate quelle che sono le meraviglie del parco, quindi dal punto di vista sia faunistico che di flora. Il pomeriggio invece, a cura del pianeta Alzheimer nazionale, del CGS nazionale Don Bosco, avremo la proiezione di un cortometraggio che si intitola Non temere di Marco Calvise. Ne invito la visione a venire a vedere questo cortometraggio che appunto sarà proiettato al Teatro Don Bosco alle ore 17 a San Cataldo, in quanto è un cortometraggio molto ma molto bello e interessa sia agli operatori che si occupano degli ammalati, così anche ai familiari e le strutture che ospitano i pazienti. A seguire del cortometraggio ci sarà un dibattito animato da me e dalla dottoressa Roberta Leonardi del centro diurno, appunto dove parleremo di quelle che saranno le problematiche e le prospettive delle famiglie e di quello che sono gli operatori nei riguardi dei pazienti.